Bella, perché sono un salernitano d'occhio, potevo prendere delle iniziative e concordare con me, questa bellissima, io ringrazio tutti i club, tutti i miei amici presenti in questo momento, non possiamo dimenticare ai tarienzi, l'ha fatto senza scopo di lui, lo facciamo pure noi, quindi me venga che devono essere premiati ancora altri salernitani, facciamo minore, e William Russe, anche nonostante che non era il salernitano, c'è un salernitano per il portare alto, quelli che ha fatto i dottori russi, senza uno stipendio, lo facevano con amore e passione per la propria squadra e della salernitata, ci saranno Iacovazzo, Onorato, Valesi, verranno premiati, speriamo sempre il bene che questa città aderisci a questa grande manifestazione. Grazie Presidente, vorrei prima scoprire insieme ai parenti e agli amici questa targa anche per la famiglia, la famiglia, prego, prego, la famiglia. Piano piano, piano piano, eccoci.